E' la seconda volta che partecipo a Sanremo e la prima volta ricordo c'era molto pubblico, con molti artisti. Ora la differenza è che gli artisti internazionali sono separati dagli italiani e io credo che questa sia stata una buona idea. Io credo che la bellezza sia molto importante, soprattutto quando sei su un palco, ma ci sono molte artiste che non sono bellissime e hanno lo stesso tanto successo, perché hanno qualcosa di speciale nella voce e io credo che questo valga anche per me. Io sono molto fortunata ad avere una voce speciale che nessuno può copiare ed è per questo che io vendo i miei dischi, non perché sono carina.